Io vorrei che leggeste questo libro, spero che leggiate questo libro, per due motivi. Il primo motivo è che io credo che la narrativa popolare, la letteratura popolare, possa raccontare il mondo molto bene, perché parlando delle cose che ci fanno paura, delle cose che abbiamo dentro di noi che sono oscure, può raccontare quella parte di mondo che forse non viene toccata da altri tipi di letteratura. Penso che la narrativa popolare sia universale e possa durare a lungo nel tempo. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che ho l'onore di aprire una nuova collezione, la Bet Noir, e vorrei veramente che andasse molto bene, perché ci saranno dei bei libri, a parte il mio, dopo il mio. E quindi dobbiamo cominciare bene. Grazie.